Gurentag ragazzi e benvenuti o bentornati! Sul canale oggi scopriamo come sbloccare il trofeo dominio globale completando l'easter egg di Iterella su Liberty Falls. Come sempre ti ricordo al volo di iscriverti se non sei già iscritto ed iniziamo! Sul canale trovi la playlist in aggiornamento con tutti i tutorial di Liberty Falls. Allora, innanzitutto dobbiamo essere in possesso della Jet Gun, dopodiché dobbiamo trovare 9 statuine di Iterella sparse per la mappa. Le prime quattro statuine si trovano tutte quante nel negozio di fumetti di Holly, precisamente in queste quattro posizioni. Le potremo raccogliere tutte e nove in qualsiasi ordine. La quinta statuina è allo Spawn, al lato sinistro sulla scritta Motel. La sesta è nella piazza, più o meno dove saltiamo sul camion per prendere il pezzo della Jet Gun, è esattamente su quella finestra. La settima è alla chiesa, precisamente è appoggiata su questa finestra. L'ottava è all'uscita del bowling, immediatamente sotto la grande insegna Liberty Lanes. E la nona ed ultima la prenderemo scendendo per di qua dal tetto principale. È nascosta dietro quel condotto di ventilazione. Una volta che avremo preso anche la nona statuina, ci trasformeremo per 90 secondi in Iterella e avremo sbloccato l'obiettivo, o il trofeo, dominio globale. Durante questi 90 secondi saremo completamente invincibili e spareremo continui raggi di etere dagli occhi, che falceranno tutto. E questo era il tutorial dell'obiettivo dominio globale e dell'easter egg di Iterella su Liberty Falls. Spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti sia stato utile. Iscriviti al canale se non sei già iscritto e noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Auf Wiedersehen!